Ciao a voi tutti, oggi è sabato 16 marzo, sabato, ci viene in mente subito la figura di Maria. Siamo qui nella cappella a lei dedicato con questo bellissimo quadro che abbiamo, la Madonna della Divina Providenza. Sapete cosa vi dico oggi? A me piace tantissimo questa immagine perché avete visto la Madonna che c'ha in mano il bambino. Sapete cosa vi dico adesso? A nome mio, a nome vostro? Vergine Maria, togli per un attimo il bambino tuo Gesù e metti me fra le tue braccia. Ho bisogno tantissimo di te, del tuo sorriso, della tua materna protezione. Oggi una bellissima Ave Maria, tutti più di una volta. Ciao.